col primo mandano tutta a sinistra poi tutta a destra dai destro 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 sinistra tira tira col braccio tira brava tira col braccio tira tira di regola a sinistra ma non con la più la più a sinistra più verso colonnella destro 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 polanda su e su sinistro ma lo sa lì brava sinistro 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 e non va niente